Proprio sul debito italiano, la situazione delle banche italiane è drammatica proprio perché sono pieni i titoli di debito italiano? No, peggio. 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 Peggio perché hanno anche un terzo dei loro attivi in immobili il cui valore non è immobile, è in discesa. E quindi... Grazie. E quindi... Grazie. Grazie. Attenzione, Banca d'Italia sta spingendo... ci sono banchieri molto arrabbiati in giro per il paese, ho scoperto il 31 maggio scorso. Perché Banca d'Italia vuole presentare le banche italiane al prossimo test? Come sapete la vigilanza deve andare a Francoforte, sempre che ci sia ancora a Francoforte, dopo il 22 settembre. Noi teniamo le dite incrociate e da filo inglese che ero sto diventando filo tedesco perché... Se la Merkel perde le elezioni non so cosa succede alla lira, perdono, all'euro. Però, però, no, scherzi a parte. Allora, gli immobili per tradizione non sono mark to market, non sei costretto a mettere i collaterali o i tuoi immobili, tu banchiere, al prezzo di mercato di oggi. Perché si assume che non c'è un trading sugli immobili per cui tu devi quotare il patrimonio immobiliare tuo a prezzi di mercato di ogni giorno. Quello che sappiamo è che mentre negli Stati Uniti i prezzi degli immobili salgono e scendono rapidamente, le nostre bolle, infatti io non ce l'ho fatta portarvela, i miei collaboratori non mi hanno aiutato questa settimana, ma ci sono le bolle all'americana che sono molto strette tutto sommato, vanno su in cinque anni e tornano giù in due i prezzi. La bolla italiana, che anche noi abbiamo avuto la nostra, è salita lentamente, è salita meno di quella americana, ma scende molto lentamente. Per cui attualmente l'invenduto è tale per cui non si aprono nuovi cantieri e ci vorranno ancora tre o quattro anni prima che quell'invenduto scompare, riassorbito se ce la facciamo, e quindi i prezzi cessano di essere previsti in declino. Allora, se io ho in bilancio un immobile comprato cinque anni fa per un milione di euro, oggi cosa dovrei mettere? Cinque anni fa era il 2008, massimo anche per noi. Oggi posso mettere il milione di euro del 2008? Sarà meglio di no, se voglio essere una banca affidabile. Io privato faccio gli affari miei, ma il banchiere non è un privato che fa quello che vuole del suo bilancio, perché deve avere un certo capital ratio da rispettare e quindi se ha in bilancio delle minusvalenze latenti, dovrebbe apportare con le opportune variazioni di rettifiche e dire che quel milione oggi se lo vada a vendere entro tre mesi. Non esageriamo. Se vai in asta fallimentare prendi un decimo, ma nessuno è così stupido da dirti, vai in asta su tutti gli immobili. E chi li compra? Ci sono battute in questo paese di tipo vendiamo gli immobili pubblici. A chi? E gli italiani sono ricchi di case. No, scusa un attimo, io dovrei vendere la mia casa per comprare un immobile pubblico. E a chi vendo la mia casa? Perché c'è chi ci marcia su queste cose. Tornando alla domanda, le banche italiane se quotassero tutto l'attivo immobiliare a prezzi di mercato di oggi, non ce n'è una che sopravvive. Ma ovviamente questo è un esercizio teorico assurdo, perché nessuno gli chiede di farlo e quindi qualche anno vanno avanti, sempre che arrivi la famosa ripresa, che c'è stata promessa e non arriva. Perché è chiaro che poi quando riparte l'economia, anche le sofferenze sull'altra componente dell'attivo, che sono i prestiti alle imprese, smettono di crescere. Questo è il momento peggiore per un banchiere, perché in questo momento ha una quota dell'attivo che dovrebbe svalutare un'altra quota dell'attivo di imprese che non hanno ancora finito di fallire. E quindi anche lì si aprono sofferenze, contenziosi, spese, eccetera. Quindi in questo momento chiaramente il sistema bancario, salvo eccezioni, non è messo come la Ferrari. Attenzione, questo è un paese affascinante, perché c'è un mare di qualità. Ma peccato che su quella non riesci a mettere i soldi, perché c'è già la famiglia o altri che ce li hanno. Perché se voi andate alla Chitona d'Arzano, ero a Maranello l'altra settimana, eccetera, vedete gente che non è mai andata così bene. Peccato che quelli che vanno bene non vi chiedono soldi, ed è difficile investire su quelli che vanno bene. Per cui il paradosso è che questo è un paese che ha marchi fantastici, soldi ancora oggi, nonostante la gravità della crisi, e tu non riesci mai a mettere i tuoi soldi dove ci sono più profitti e ti tocca investire dove ci sono le perdite. Beh, non è mica un bel mestiere. Quindi la ricetta per uscire da questa crisi, sia per il sistema finanziario italiano, sia per il sistema finanziario diciamo europeo, non è quella che sta dettando l'EBA, cioè l'European Banking Association. Mi sembra che stia aggravando la problematica finanziaria. Chiedo rafforzamento dei requisiti patrimoniali continuamente. So cos'è. Continua a chiedere capitale. No, no, è ovvio, no, scusate, al di là della battuta, ho un rapporto di simpatia con Radio 24 e con il sole 24 ore da 30 anni. No, scherzi a parte, siamo sempre lì, è colpa del regolatore, è colpa del medico che mi ordina la purga, se io ho fatto indigestione, è un po' strano. Insomma, in questo momento nel gioco delle parti, pensate a tutto il tema dell'austerity. Allora, si è proclamato che chi aveva fatto troppi debiti doveva tirare la cinghia e smettere di far debiti e possibilmente eccetera. Questa è una ricetta che assomiglia ai salassi e alle purghe che erano la medicina di una volta. Oggi facciamo trapianti, cioè ristrutturazioni, fusioni, operazioni di finanza straordinarie, grazie alla quale il rischio che il paziente muoia è minore. Perché il salasso e la purga a volte, se il paziente è già troppo debole, lo ammazza. E questo è quello che abbiamo visto succedere. Quindi anche l'austerità dice, i creditori vogliono che il debitore non fallisca. Ah, chiunque. Questa è una ricetta di buonsenso. Avendo le banche tedesche finanziato la dissolutezza greca che imbrogliava anche sui conti per dieci anni, poi all'improvviso sono andati là col bastone a dire, e i finlandesi volevano portargli via il partenone. E i greci hanno detto, no, i russi lo pagano di più e lo vendono ai russi. È perché i greci da sempre sono bravi. C'è una gara fra russi e cinesi a chi si compra il Pireo. E poi noi, creditori, scopriremo che la Grecia è diventata un condominio russo-cinese. No, scherzo, ma mica tanto, perché questi sono i rischi. L'Europa che non c'è è un'Europa in vendita. E quando io vedo in Italia, se domani Montezemolo, invece di perdere tempo in politica, mette in asta la Ferrari, c'ha dieci domande a prezzi crescenti e vende la Ferrari fra russi, cinesi e indiani a prezzi stratosferici, perché tutto il mondo soglia la Ferrari e ha maggior ragione la fabbrica delle Ferrari. Però questo vuol dire che allora noi siamo un Paese in vendita dove ovviamente non comprano le schifezze, non siamo riusciti a vendere un senatore, ma comprano le qualità. Un'ultima domanda la faccio io e poi andiamo alle conclusioni. Non so se lei lo sa, professor Vaciago, se mai glielo dico io, no? Sa che il nostro Paese ha uno stock di risparmio privato molto alto e qualcuno dice che è per fortuna che abbiamo questo stock perché così si è salvato questo Paese da momenti veramente molto drammatici. Questo è uno stock, è un valore molto importante che le persone che sono qua in platea devono curare, di cui devono prendersi cura appunto. Ci dà la sua ricetta, la sua personale visione sul tema dell'educazione finanziaria che deve essere il lavoro che devono esercitare questi professionisti? Sì, anche qui attenzione, l'ho già detto, lo ripeto, se lei parla di risparmio è un flusso, se lei parla di ricchezza è uno stock. E attenzione che il nuovo risparmio, quanto le famiglie e le imprese accantonano ogni anno, è in forte contrazione. Eravamo un record al mondo, risparmiavamo un 20% del reddito nazionale all'anno, ci abbiamo finanziato tre volte l'Italia, un mare di debito pubblico, eccetera, e anche investimenti produttivi. Adesso non voglio fare solo battute, però attenzione che in questo momento la disoccupazione giovanile che non va in piazza è perché è mantenuta di nuovo dalla famiglia. Io per fortuna sono stato fortunato, i miei quattro figli hanno tutti un reddito e non devo mantenerli io, ma sto pensando seriamente di fare borsi di studio per i nipoti che vogliono studiare in Inghilterra e in America, perché nel declino la prima generazione è protetta dallo stock del genitore, è la seconda che si impoverisce e questo è quello che sta purtroppo succedendo. Allora il risparmio diventerà, e già in parte, sempre più scarso. Dopodiché ovviamente voi non amministrate solo il flusso, amministrate tutto lo stock e quindi c'è ancora molta ricchezza in Italia, non sto sottovalutando. E impiegare bene quella ricchezza è il mio messaggio, e lo ripeto, è guardare sempre molto ai fondamentali, perché alla lunga, le mode, cioè tu una quota di risparmio la metti in ciò che è di moda quest'anno, ma la vera diversificazione la fai nel tempo, fra ciò che è di moda quest'anno e ciò che ha i fondamentali corretti negli anni. E quindi, poiché a tutti interessa sapere, invecchiando la popolazione, eccetera, l'altra cosa è che tutti gli italiani giovani non lo sanno che non avranno pensione. Qui c'è un campo fondamentale di far sapere ai giovani che finita l'eredità, poi come campano? Visto che il sistema pensionistico non è più quello di una volta, grazie alle riforme, anche quelle dell'Elsa Fornero, vi scordate che con 15 anni di lavoro si va in pensione all'80% dello stipendio per 50 anni, quello è il dissesto che noi abbiamo fatto nella finanza italiana. magari avessimo usato il debito pubblico per finanziare infrastrutture e investimenti a reddito. L'abbiamo sostanzialmente consumato quel reddito con un sistema pensionistico da paese senza futuro, cioè quello che conta è quello che porto a casa adesso e non penso ai miei figli e ai miei nipoti. Allora, tornando al tema, è chiaro che ci sono due sfide. Una è la diversificazione, come riesco a farla nel breve periodo in un mondo così globale che gli shocks sono uguali qui in Giappone, in America e in Inghilterra. Questo non era vero una volta, è la novità degli ultimi anni. E l'altro discorso è che i fondamentali sono così diversi che nel lungo periodo, fra un po' scopriremo che investire in Cina è meglio che investire in aziende italiane. O meglio, investire in aziende italiane che investono in Cina vuol dire fidarsi di chi ha un futuro. Quando io trovo un'azienda italiana, la prima domanda che gli chiedo è quanti operai hai? 2.000, di cui in Italia 500. Questa è un'azienda che sta a Reggio Emilia e si chiama Brevini. Bene, 1.500 in giro per il mondo, 500 in Italia. E in quei 500, quanto di quel prodotto viene esportato? La metà. Boh, questa sta a Reggio Emilia, ma non è un'azienda italiana, anche se il Cavaliere Brevini la dirige ancora, nonostante che è lì da 50 anni. Allora, intendo dire, questa è un'azienda che mi riflette il mondo. L'azienda è così brava da essere in grado di diversificare, lo gestisce lei il rischio d'azienda, perché se ha due terzi dell'occupazione in giro per il mondo e metà del prodotto qui è esportato, per quanto noi sbagliamo nelle leggeri politici, i danni che lei subisce sono pochi. e quindi è già auto riequilibranti. Questo è molto importante. E ne abbiamo di queste aziende. Stanno nella produzione degli altri paesi, non nelle nostre statistiche. Quando mi chiedono l'Italia come va, io dico bene, soprattutto quella parte che non sta qui. Perché è sempre italiana, ma è fuori. Benissimo.